e anche quest'anno non ci si può perdere il luca comics l'edizione del 2018 qui stiamo proprio arrivando quindi vi porterò con me col viaggio che ho fatto io quest'anno per vedere cosa ho visitato e la prima cosa che sono riuscito a trovare di veramente spettacolare ai luca comics e un parcheggio il trucco è svegliarsi alle 6 e mezza del mattino buongiorno signori e bentornati sul canale del mastercard video speciale per l'edizione luca comics 2018 quest'anno alla rassegna del made in italy giusto perché lo sappiate io sono tornato dai luca il venerdì sera anche perché io abito praticamente vicino ad aosta quindi arrivare da luca qua sono 5 6 ore di macchina tra l'altro faceva anche un tempo pessimo e il video voi lo vedrete domenica quindi tempi strettissimi di realizzazione per me stavolta quindi vediamo di affrettarci e la prima cosa che bisogna fare è dare un'occhiata alla cartina questa è anche qualcosa di estremamente raro perché almeno i primi due giorni di cartine ne erano arrivate poche quindi un sacco di persone sono rimaste senza ma ovviamente il mastercard no e di roba da vedere quest'anno c'era un bel po noi ci siamo svegliati alle 6 e mezza il nostro albergo era pescia luca ovviamente non si troverà mai posto se non da dei prezzi esorbitanti e la prima cosa abbiamo fatto è stata l'entrata da porta elisa per andare al welcome desk dei biglietti da lì dato che si procede prima con le cose più importanti ci siamo fatti tutta la passeggiata sulle mura molta roba era ancora in allestimento per esempio c'è il padiglione di feudalesimo libertà che stava montando le prime cose siamo passati anche la cittadella a vedere le armi e a non farci dare una cartina perché non erano ancora arrivate e poi abbiamo fatto la fila per aspettare che il padiglione carducci quello dei giochi di ruolo aprisse e nonostante fosse l'inizio della mattinata del primo giorno tecnicamente di un giorno feriale comunque il padiglione cartucci era pieno non era pieno da tanto da non poterci si muovere dentro ma comunque di gente ce n'era un sacco sono anche riuscito a fare un po di riprese stavano ancora all'estendo dei banchi alcuni gruppi hanno già cominciato a fare delle dimostrazioni ovviamente visto il tema di quest'anno il made in italy tra produzioni italiane traduzioni italiane produzioni estere c'era di tutto sono riuscito a vedere il padiglione dove vendevano l'off castesche che ha vinto quest'anno il gioco di ruolo dell'anno portandosi dietro una serie di polemiche c'era anche qualcuno che lo stava visionando ovviamente ho fatto un salto al padiglione dei giochi uniti per vedere se c'era qualcosa di interessante per quanto riguardava pathfinder o warhammer fantasy battle e quale riprese le potete vedere un po meno il problema che c'era anche al mattino c'era comunque troppa gente davanti per riuscire a riprendere bene comunque una carrellata sono riuscito a darla purtroppo poca roba interessante per me quest'anno perché c'erano le ultime traduzioni di pathfinder finalmente è uscito in italiano l'unchained però io oramai sono abituato a usarlo in inglese quindi non sono stato a prenderne un'altra copia in italiano speravo fossero calati i prezzi per la seconda edizione di martelli da guerra e invece sarà per l'anno prossimo quando la quarta edizione ormai sarà uscita un sacco di roba nuova soprattutto per quanto riguarda starfinder questo bisogna dirlo stanno facendo un lavoro veramente serrato con le traduzioni ovviamente comunque non sono uscito lì a mani vuote mi sono preso un gioco in scatola che era un paio d'anni che non compravo niente ma ho trovato il gioco a tavolo di fallout che l'avevo già adocchiato quest'estate o speravo che scendessero un po i prezzi anche qui però diciamo che 60 euro li merita abbastanza complesso adesso devo mettermici lì a vederlo un po bene i giochi in scatola sono un po fuori dai miei hobby normali mi cederico quando posso però questo merita ho anche parlato con amici che ce l'hanno ma ho detto no no merita proprio uscite dal carducci a un orario ancora decente erano intorno alle 10 10 e mezza c'era ancora relativamente poca gente in giro abbiamo rifatto le mura capo obbligatorio di via vittorio veneto per andare al padiglione passamaglia dove ci sono lo stand dei fumetti qui era già strapieno sono sono riuscito a fare un piccolo video ma non si riusciva veramente a vedere bene intorno abbiamo provato a fare un po di giri poi ci abbiamo rinunciato ci siamo tornati dopo perché quest'anno al mio gruppo si è unito un ospite speciale è voluto venire mio padre che era tutta la mattina che insisteva perché ci sbrigassimo perché lui doveva passare al padiglione della bonelli infatti quest'anno era uscita l'edizione speciale di tex di cui ovviamente mio padre volso prendersi una copia sì quando uno pensa di essere un nerd della vecchia scuola c'è sempre un nerd più vecchio di una scuola più vecchia della tua questo è un adagio che tutti dovrebbero ricordare quindi tappa al Sergio Bonelli editore e ovviamente dato che lì vicino tappa al padiglione della panini tra me e i miei amici si sono riempiti di fumetti quello che potevano sto a mostrarvi la cosa perché dovevi tirare fuori tutto uscite da lì non poteva mancare una tappa al padiglione della nintendo anche perché volevano vedere che cosa avevano preparato devo dire un po' deludente un sacco di fila veramente un sacco di fila all'interno c'era molta roba da provare veramente molta però spazi molto ristretti forse la mia impressione ma l'anno scorso mi sembra fosse più grande anche perché quest'anno sui videogiochi hanno puntato veramente tanto la manifestazione salita di livello per quanto riguarda l'ambiente dei videogiochi oltre che quello dei fumetti dei giochi di ruolo su cui già la manifestazione più grande d'europa la seconda manifestazione del mondo dopo dopo san diego credo a questo punto tappa per il pranzo obbligatoria e poi ci siamo voluti fare un giro completo delle mura tra l'altro voglio ringraziare anche tutti quelli che poi durante il viaggio ai vari spostamenti sono riuscito a incontrare messaggiandosi per cellulari nonostante la rete avesse deciso di impazzire e mi dispiace anche perché con almeno un paio di voi mi hanno mandato dei messaggi che io ho ricevuto ore dopo e credo non abbiamo mai neanche ricevuto le mie risposte perché so che almeno un paio di voi con cui vorranno vederci non sono riuscito a incontrarli e mi dispiace ragazzi faremo l'anno prossimo tanto sarò di nuovo lì sicuramente inutile dire che finito il giro completo delle mura dopo tutte le camminate avanti indietro della mattinata lo spacca ginocchia cominciava a fare il suo effetto quindi prima di non essere più in grado di guidare abbiamo deciso di ritorna in albergo sono state le sei così l'ho anche detto su facebook credo inutile dire che potendoci fermare solamente due giorni quest'anno il mattino dopo eravamo di nuovo lì alle otto tra l'altro di nuovo lo stand games perché sono arrivati gli ordini da casa da quelli che non sono riusciti a venire a luca con noi per comprare dadi comprare robe comprare fumetti quindi si ritorna lo stand games tra l'altro anche lì sono riuscito a incontrare un paio di voi quindi diciamo che la cosa alla fine si è risolta avere un'utilità anche per me che lo stand games me l'ho girato già in lungo e largo tutta la mattinata e poi abbiamo dedicato il resto della giornata ai videogiochi prima le finali di quake tra l'altro l'evento era decisamente spettacolare anche se la sala la sala era enorme e tranne le prime file il resto della gente più che altro era lì perché come noi avevano le ginocchia a pezzi e lì si poteva stare seduti tranquilli al fresco perché se il primo giorno ha piovuto a intervalli per tutto il giorno il secondo giorno faceva un caldo omicidiale era stato predetto nubifragio e in realtà non è avvenuto quindi noi ci siamo potuti godere quake con calma e poi ovviamente sì abbiamo ripreso il giro altro giro delle mura qua principalmente per vedere i cosplay tra l'altro un paio di persone che volevo incontrare non sono riuscito a incontrarle del mondo dei cosplay perché per inefficienza di orario anche quello sarà l'anno prossimo poi ovviamente pausa pranzo e per chiudere la giornata prima una sosta al negozio ufficiale blizzard dove ho evita evitato accuratamente di comprare qualsiasi cosa visto i prezzi però già solo il fatto che l'abbiano ricavato all'interno della struttura delle mura meritava una visita sono anche riuscito a fare dei filmati vista la cosa che c'era fuori forse qualcuno di voi anche se la lucca non è riuscito a entrarsi ed è curioso di vedere cosa c'è dentro e poi ovviamente tappa la japantown che per vederla tutta abbiamo impiegato almeno un paio d'ore considerando che lo stato in cui eravamo ci costringeva andare piano effettivamente essere dei giocatori di ruolo non ti allena a livello fisico questo bisogna ammetterlo avremmo voluto fermarci di più ma eravamo stanchi morti quindi fermarci per gli eventi serali non era il caso quindi abbiamo preferito tornare in albergo volevamo vedere ancora qualcosa la mattina il venerdì mattina che per quanto riguarda me è stamattina però ha cominciato a fare il brutto tempo ci siamo anche svegliati tardi perché erano due giorni che fondamentalmente tra una cosa e l'altra non dormivamo quindi purtroppo abbiamo dovuto abbiamo dovuto rinunciare se c'era qualcuno che con cui volevano incontrarsi il venerdì mattina mi scuso ma con sei ore di macchina non era il caso di farsi un'altra ammazzata di percorso il problema di quando sei un vecchio nerd è che il tuo fisico non regge alla tua nerdaggine se non ci siete ancora arrivati prima o poi ci arriverete e sarà divertente inutile dire che i luca sono sempre un evento eccezionale e dato che ce li abbiamo qui in italia sarebbe è un errore imperdonabile farseli mancare tra l'altro sì io ho ancora i braccialetti l'ho notato anch'io adesso oramai non li sento neanche più dicevo un errore imperdonabile farseli mancare io cerco andare tutti gli anni e da quando ho cominciato a fare il canale youtube in un modo o l'altro cerco di fortarvi con me per quelli che la manifestazione per un motivo o per l'altro se la sono dovuta perdere diciamo che per questo video la chiudiamo qui un video un po più corto rispetto a quello dell'anno scorso ma come vi ho detto sono anche molto stretto di tempi diciamo che in diretta adesso è mezzanotte un quarto e io al di là di dover andare a dormire domani sera abbiamo sessione di gioco per quelli che non sono venuti a luca che vorranno sicuramente vedere cosa abbiamo comprato quindi io passerò il sabato pomeriggio a cercare di montare il più velocemente possibile per farvi vedere questo video domani mattina se ci sono stati degli errori non me ne prendo responsabilità da domenica prossima ovviamente ritorniamo con la programmazione regolare del canale quindi per questo video è tutto mi piacerebbe sapere da voi se siete andati ai luca comics vabbè alcuni di voi lo so perché ci siamo incontrati ma se c'era altra gente cosa vi è piaciuto la manifestazione di quest'anno cosa dovrebbero raggiungere perché in realtà la critica è sempre costruttiva se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo se non volete perdere i prossimi video schiacciate il tasto della campanella io sono il master CAE e noi ci vediamo al prossimo video